Qua! Allora, Ilde Makhingrania, nella sua sacralità, alcune settimane fa ha tirato fuori dal terreno Ci ha donato, ci ha donato nella sua infinita generosità E' quel... Cubo? Ah, quello più in là No, 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 bravi è il momento giusto per correre questo Non c'è solo gente che sembra un'armatura vivente che riflette gli incantesimi, c'è gente normale anche Quelli non sono normali Però sono in canale Che la nostra caccia sia sempre propizia Che la vostra caccia sia sempre propizia Grazie Ah, hai imparato eh? E' pure il diritto Cosa c'è una cosa che imparo sempre, sono i brindisi In questi giorni ne ho sentiti davvero tanti diversi E quindi? Solo siamo quelli che pensavano i problemi di gente come te Ciao Non apprezzo molto questo comportamento Ah Sei pronta a morire? Mi fai dare l'ultima cosa a una persona? Chi? Mi basta Dall'onimo Amore Dillo da la mia pataletta Ora sei pronto? Pensavo di essere stato chiaro! Forse? Devo prendere qualcun altro? Cosa ci fate ancora qui? Cosa ci fate ancora qui? Beh? Oh Ok Tappatevi le orecchie Bravo Attento Double Double! Ci penso io! 3 ball! Double! 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 Extra! Extra! 3 ball! 3 ball! 3 ball! Tutti me! Tutti me! Double! 3 ball! No! Grazie! Lasciami qui! Lasciami qui! No! Corri! Corri! Dietro! 75! Donne proyect! Ahaha yah! Oh and yea away!